Se le dico 2 agosto 1980, cosa le vedi? La stazione è stata terribile, non ci pesa ancora. Video dell'epoca, interviste ai superstiti, testimonianze dirette. Il 2 agosto 1980, giorno dell'attentato alla stazione di Bologna, non esistevano motori di ricerca e smartphone, ma non per questo la memoria di quel tragico evento deve essere inaccessibile per chi con internet è cresciuto. È lo scopo del progetto Google Non C'era, Mia Nonna Sì, evento promosso dall'Associazione dei Familiari delle Vittime del 2 agosto e Piantiamo la Memoria, sostenuto dall'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna. Un piano per presentare alla cittadinanza video e audio realizzati da studenti nell'ambito di progetti formativi dedicati alla storia del terrorismo e delle stragi. I video che saranno presentati venerdì 31 luglio insieme ad altri realizzati nelle scuole emiliano-romagnole, alcuni dei quali premiati dal Presidente della Repubblica, sono stati pubblicati nella sezione Buone Pratiche del sito www.mappedimemoria.it realizzato dall'Associazione 2 agosto in collaborazione con l'Assemblea Legislativa. E per commemorare il 2 agosto, quest'anno è stata messa in piedi anche l'iniziativa Avrei potuto essere io, un progetto artistico che Sonia Lenzi, artista e fotografa di Bologna, ha realizzato con l'obiettivo di mantenere viva la memoria della strage avvenuta alla stazione di Bologna. L'attività partita da Sonia Lenzi già nel 2013 ha portato alla realizzazione di un monumento alla memoria delle vittime della strage, che verrà collocato temporaneamente nell'atrio della stazione Alta Velocità di Bologna e sarà inaugurato sempre il 31 luglio.